cosa sono i dividendi i dividendi semplicemente sono quella porzione di utile che viene ridistribuita ai soci quindi agli azionisti a seguito di un utile ottenuto dall'azienda in cui questi azionisti hanno investito i propri capitali quindi che cos'è precisamente è tipo il diritto degli azionisti a ricevere sostanzialmente un compenso in caso di utile no non è un diritto quindi gli azionisti non possono pretendere di ricevere i dividendi infatti è l'azienda a decidere se distribuire o meno i dividendi relativi un determinato ed eventuale utile ovviamente i motivi per decidere se ridistribuire o meno i dividendi possono essere molteplici principalmente tuttavia un'azienda che decide di ridistribuire l'utile lo farà sostanzialmente perché per tenersi buoni gli azionisti per esempio quindi per far cosa per sostanzialmente invitare tra virgolette gli azionisti a non ritirare i propri capitali e magari incentivarne altri a comprare le azioni della mia azienda qual è il motivo il motivo è che i dividendi sono presi in serie a considerazione dagli investitori prima di effettuare un investimento infatti ci sono alcuni investitori che preferiscono investire in aziende che danno dividendi piuttosto che in aziende che non danno dividendi invece un'azienda che decide ipoteticamente di non ridistribuire i dividendi probabilmente lo farà perché lo farà per reinvestire i soldi dentro se stessa quindi sostanzialmente mantenere la propria crescita reinvestendo gli utili e quindi incentivare lo sviluppo dell'impresa stessa anche questo è un elemento che può essere ben visto dagli investitori perché è ovvio che un'azienda che ridistribuisce il proprio utile al suo interno è facile che poi maturerà un certo capital gain a livello di azioni e quindi gli azionisti potranno avere un certo guadagno anche dall'incremento del valore delle azioni ovviamente questo è ipotetico nel senso non è scontato che un'azienda che non ridistribuisce dividendi per sue scelte sue politiche non per questioni strutturali ecco in questo caso non è detto comunque sia che un'impresa in quella condizione poi genererà un utile allora la scelta semplicemente sta agli amministratori quindi ovviamente non ai soci ma agli amministratori e quando gli amministratori potranno ridistribuire l'utile allora è molto semplice gli amministratori cosa fanno devono prendere i bilanci prendere i libri sociali eccetera eccetera fare le opportune verifiche e stabilire se per l'azienda sarà o meno sostenibile ridistribuire gli utili perché è ovvio che se un'azienda è per esempio molto indebitata e dovesse avere un utile a fine anno è ovvio che questi dividendi non converrà sostanzialmente distribuirli converrà a tenersi l'utile e utilizzare l'utile per risolvere i propri problemi strutturali e poi cosa succede semplicemente questa scelta di ridistribuire o di non ridistribuire gli eventuali utili sarà poi ratificata dall'assemblea straordinaria assemblea straordinaria ovviamente composta dai soci è praticamente come l'assemblea ordinaria con la differenza che richiede maggioranze diverse per deliberare e delibera su questioni più importanti rispetto a quella ordinaria questioni come per esempio appunto quella dei dividendi c'è inoltre un ulteriore elemento che vorrei mettere in evidenza che è quello della riserva legale infatti non è detto che anche se ci fosse ipoteticamente un utile un'azienda lo potrebbe a prescindere e distribuire totalmente questo perché perché esiste la riserva legale infatti le società di capitali per legge cosa devono fare devono creare una riserva legale quindi una riserva di liquidità di soldi per che motivo per tutelare i creditori sociali quindi per tutelare i creditori sociali la legge impone la creazione di una riserva legale questa riserva legale deve essere pari almeno a un quinto del capitale sociale della società e quindi cosa succede che quando c'è un utile l'azienda dovrà destinare un ventesimo di questo utile ogni singolo anno fino a quando non si raggiungerà un quinto del capitale sociale quindi in ogni caso finché non si raggiunge questa percentuale di riserva quando si raggiunge questo questo target questo obiettivo l'impresa comunque non potrà ridistribuire totalmente i propri utili un'ultima cosa che ci tengo a dire è come viene ridistribuito l'eventuale utile quindi in che forma vengono dati i dividendi allora ipotizzando di comprare delle azioni di un'azienda che le distribuisce gli utili e che questa azienda avrà un utile quindi avrà dei dividendi da distribuire cosa succede ci dovrà dare appunto ciò che ci spetta e come potrà darcelo potrà darcelo o in modo liquido quindi dei soldi ed è la diciamo la modalità prevalente oppure potrà fare un'altra cosa cioè darci delle azioni pagarci in azioni queste azioni prenderanno nome di stock dividend però prevalentemente le aziende preferiscono pagare in modo diciamo liquido i dividendi quindi ciò che devono dare ai propri soci con questo direi che è tutto io spero che il video vi sia piaciuto spero che possa esservi utile vi chiederei se il video vi è piaciuto di lasciare un like e di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto io in ogni caso vi auguro un buon proseguimento grazie ancora e ciao a tutti